Per il secondo anno consecutivo si è svolta l'Ostia Liberfest, nata da un'idea di Gianni Maritati ed organizzata dalle librerie del territorio. La manifestazione aveva come tema equilibri in cammino col viandante e si è svolta interamente online a causa dell'emergenza pandemica. L'edizione di quest'anno è stata dunque un omaggio al padre della lingua, della cultura e dell'identità italiana nel settecentesimo anniversario della morte. Dante è stato ricordato e celebrato nei sette giorni di evento attraverso video e post con presentazioni di novità editoriali, incontri con gli autori, letture recitate, laboratori per bambini e sfide poetiche. Un'edizione che, seppur online, lascia soddisfatti gli organizzatori. L'Ostia Liberfest nasce per promuovere la letteratura, la cultura in questo territorio e soprattutto nasce dalle piccole realtà come le librerie, come la nostra bottega o come altre piccole associazioni che hanno partecipato. Ma normalmente noi pensavamo che potesse essere fatta solo in presenza. Invece lo strumento online ci ha comunque permesso di essere a contatto con le persone che hanno reagito molto bene e soprattutto anche di coinvolgere personaggi che forse in altri contesti non sarebbero venuti. Siamo contentissimi ad esempio di aver avuto Sanguinetti, il dentista, per cui è stata secondo me molto positiva. Un festival dedicato innanzitutto a Dante ma che ha avuto anche spazio per i bambini. Sì, certamente. Come vedi noi siamo una libreria per bambini e abbiamo svolto questo festival nelle nostre competenze che potevamo fare. Vale a dire abbiamo letto dei libri sul viaggio per i bambini, qualche libro per bambini su Dante e sulla Divina Commedia. E io come toscano ho avuto l'onore e l'incarico di leggere il 33esimo canto del Conte Ogolino, visto che ero l'unico che poteva leggerlo in lingua originale. E insieme a noi in questo festival delle librerie di Ostia, il secondo, purtroppo online, hanno partecipato anche Pass de Quappo, Lipo, ha poi partecipato Poetry Clan. Abbiamo coinvolto diversi artisti della zona di Ostia per questa bellissima cosa che abbiamo fatto. Al festival hanno partecipato anche Biblio Ribro, Sogna Libri, Carta Arancia, Book Felix e Dubic. È un'edizione che ha del miracoloso, ha infine dichiarato l'ideatore Gianni Maritati, visto il seguito che ha avuto nonostante la modalità a distanza. Ci auguriamo che nel 2022 la manifestazione, come avvenuta lo scorso anno, possa tornare in presenza.